DJ Set Live Show Venerdì 15 ottobre 2010 Terry Hunter DJ alla discoteca Caledo House Club Castelfiorentino Firenze Venerdì 15 ottobre 2010 Derrick May DJ allo spazio Picca Verona Se anche voi volete segnalare le vostre date o le date dei vostri artisti all'interno della nostra nuova rubrica DJ Set Live Show Grazie!